Credo che sarà importante riuscire a comprendere l'esito delle indagini su questo episodio. Se potrà essere archiviato come un episodio usurato, nato in un, sia pure poco chiaro, disagio di carattere personale e familiare o qualche cosa di diverso, che pure semmai indirettamente abbia risentito di questo clima complessivo di odio. Comunque l'episodio è un sintomo molto preoccupante, perché è un sintomo preoccupante del Paese, comunque possa essere poi lui stesso classificato. Il Paese è pieno di odio, è pieno di contrapposizione, è pieno di gruppi che trovano la loro identità, non attraverso la loro esistenza, attraverso le loro caratteristiche positive, ma attraverso il loro essere anti. anti qualche cosa, anti antisistema, anti altro gruppo.